dove stiamo andando in un cimitero con le nicchie? senza fiori, senza fiori, non ci dobbiamo andare con quel pulmino, da chi sono sti cosi? no vabbè ragazzi, guardate che meraviglia però, ci hanno portato in un cimitero, ogni buco sulla collina e l'entrata per un loco siamo ufficialmente nel cimitero egiziano, qua ci sono sepolti sacerdoti si perché per fare la pipì qua si paga, ah un euro per tutti? il conte dice mi chiamavi facevamo la pipì in comitiva certo, no vabbè, vabbè ragazzi dobbiamo arrivare là ah lui ha pagato l'abbonamento per la pipì, mi sembra giusto vabbè ragazzi stiamo prendendo queste macchinette per arrivare non lo so dove, da qualche parte, a guardare qualche loculo a tra poco grazie a tutti grazie a tutti